Ciao, sono Lorenzo, ho 26 anni e il mio progetto è dato il nome di Vintage Rust. Mi occupo di restauro conservativo di bici d'epoca. Cosa faccio? Vado a reperire, trovo su vecchi fienili vecchie cantine bici a cui do nuova vita, nuova storia e ancora un po' di strada da percorrere. Qui a Officine Fratte allestirò una mia vetrina-officina. No, guarda, scusa, perché sono partito, ho guardato tutta la telecamera e quindi ho detto no.